Salve a tutti ragazzi, eccoci con The Ringed City, la proseguiamo, da qui, ecco, sapevo io, ma porca puttana, allora, dunque, vabbè qua ho già ucciso un po' di nemici, quindi volevo andare là, qua c'è questo, c'è anche quello lì che mi fa paura, aspetta, ok, va bene, quello lì mi fa paura però, eh, mi fa molta paura, proviamo? no, vacca puttana uppala ah, mi fa, cazzo, mi fa spawnare qua, puttana, no, 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 pietà, pietà, sfalò, sfalò, pietà, pietà, allora, un attimo, organizziamoci, organizziamoci un attimo, allora, organizziamoci un attimo, fa culo no, guarda che cazzo, sbobba dal culo sta qua, no, cazzo, eh sì, già, sì, me lo dicono, torniamo al falò, ma puttana, facciamo le cose con calma, no, torniamo al falò un attimo ma, tanto, ok, ok, allora, questo lo uccidiamo così, panico, vissio, così, secondo me sono questi stronzi qua che diventano grandi a un certo punto, non lo so, poi c'è un'altra, ah, guarda che la puttana di tua mamma, però, eh, cazzo, ok, ok, facciamo una, eccola qua, eccola qua, ma vaffanculo, Cristo, aspetta, lo riesco a Ucciderla, no? No, panico! Ok. E che cos'è? Allora, prima di andare lì ho visto che qua c'è comunque una strada. No! Ok. Ci porta qua sopra e c'è un coso qua sotto, cazzo. Dai! Ok. Accoglio oggetto, bene. Torniamo qua sopra, poi volevo anche andare a uccidere quello lì, però, che mi ruga il cazzo lasciarlo vivo. Stavo osservando una vivacca lì, però. Quello se mi vede sono morto, decisamente. Proviamo a fare una cosa. Vediamo come funzia l'arco. Merda! Ma proprio ha un centimetro di spawn arm, no? Catroia! L'abbiamo avvelenato? Ah, vacca! Puttana Eva, però, eh. Mi ero mica accorto che ne aveva spawnato un altro, cazzo! Ma puttana Eva, quindi non gli riusciamo ad avvelenarlo, questa è una cosa che non sapevo. Vabbè, vai, a bello! A bello! A bello! Va, va, bello! Allora, devo recuperare un po' di cose perché ... Cazzo, no, meno male, ma che puttana di tua sorella, che cazzo, ancora vivo sei, Cristo, ma ecco da dove, spunta dal terreno, ok, quello è andato, aspetta, cagare, mamma mia se mi prende con quella mi fa un male secondo me, ok, dunque io prima di rischiare di perdere il coso direi di fare questo, ok, fare quello lì, cazzo è che ha parlato, ma parlano pure sti robbi, ok, apriamo le anime, dove lo fa sponare, ah lì, no, merda, no, cazzo, Aspetta, aspetta, no, togliti, come cazzo faccio? No, 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 guarda, il Cristo, la sorella, Il cazzo è venuto fuori sta zoccola La puttana di tua mamma Basta Mamma mia, oh Un po' in difficoltà sto No, 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 sono allo scoperto Eh, cazzo, che palle Non dovrei riuscire ad avvicinarmi a lui, ma Vaffanculo, sai che ti dico, vaffanculo E' un peloto il cazzo, quello Aspetta No, aspetta Dov'è? Non so che era qua lo strotto Ok, no Ah, dopo un po' si ribalta Ah, c'è l'altro ancora Ok Allora Ti ne abbiamo, 47 Allora, lì c'è un altro Sennò cercavo di non farmi ammazzare come un pirna Ok Ci vediamo il bianco, ci vediamo il bianco, ci vediamo il bianco C'è il gigante Che ci dà la mano Aspetta No, vabbè Vediamo se riesco uguale Sono quelle zanzare che mi preoccupano un po' di più di queste, innestamente Zanzare che poi sono dei mosconi brutti brutti Sono veramente difficili da colpire, cioè da uccidere Perché non basta neanche il colpo caricato al massimo, il che è tutto dire Però sono occupato a mangiare No, questa no Questa ha finito la dieta Ah, è lei che parla Ok Mamma mia, è il male che è il colpo in alto Questa Oh, cioè Facciamoci un culare Ok C'è un botto di anima, tra l'altro Stiamo facendo Dai No Ok Vai Bene Poi Allora Aspetta Coglio oggetto Poi No, aspetta È una trappola quella Non so perché Ma prevedo un'inculata Delle dimensioni epocali Non so perché Eh, ragazzi Eh, lo sapevo io Vieni qua Ah, meno male che c'è il colpo in alto Guarda lì Guarda lì che cazzo c'è C'era uno qua Che sicuramente mi incula Perché è palese la cosa Che mi vada A incula Attenzione E noi li abbiamo fatto Aspetta Dai Ok Vai Guanti del cavaliere degli anelli Ok A parte del set Velo Della strega Come velo 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 Quindi usava il velo Per nascondere l'apparenza Della strega A posto del cappello Che invece la identificava Allora Qua non sembra esserci nulla Non penso che ci sono queste stranze Che mi hanno seguito Ma io vorrei Uccidere un attimo Ah, what? No, cazzo Cavaliere, no Venga giù Venga giù Mamma mia Cattive aree No, inside Vai Ok Quanti cazzo Sono Cazzo per le fiaschette Vai Uno per volta Venga, venga Venga con quella spada Infuocata Sì Però magari Mi ha approssimato Meno rincorsa Non è per sfiducia Ma fa paura Con quella spada Quando l'hai in fuoco Vada Stamina Ciao No Me l'ha pagato Non doveva pagarlo Ok Pezzi di sanita Grazie per la fiasca Però noi facciamo una cosa del genere Andiamo così Dovevo recuperare un po' di vita Ok Beviamoci l'una Lei dottore Può venire un attimo qua per favore Non è che non mi fido Ma poi dopo le recupero Le anime Venga Venga Credo che facesse un'altra Ok Basta 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 Stagano Ok Mi sembra che c'è uno in alto Se non sbaglio O era uno che è caduto qua giù Sì Allora Vediamo cosa troviamo qua Tutto il video già 20 minuti Ah Forse qua riuscivamo a fargli Vabbè Che cazzo è stato? Che cazzo è? Qualcosa di molto grosso Se non è Si prosegue di lì quindi Altizio lì Ah Non c'è un'entrata Che minchia Ma credo ci fosse Aspetta Scusami No C'è qualcosa che Drago Eccolo lì Eh sì Salve Bene Allora Dunque qui Scendiamo Poi 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 Avendo di buttarci Non possiamo più tornare indietro Poi posso andare lì Aspetta Vai Buttati Stia calmo Stia calmo per favore Sono qua Allora aspetta Guardando c'è la possibilità di salire Ma non ne vedo io Se non rifacendo tutto il giro Aspetta Qua Magari c'è un falo Ah Sì 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 Bella Bella Ok Quindi possiamo scendere Volendo E provare Ad andare lì Che non siamo ancora stati Spada dei cavalieri degli anelli Non ha attributi particolari Fa danno da fuoco E ha scaling Bassissimo In intelligenza e fede Spada dritta Brandita dei cavalieri degli anelli Le armi dei primi uomini Fono forgiate nell'abissio E manifestano ancora Deboli segni di vita Per questo motivo Gli dei sigillarono Non avevano già letto Questo loro potere col fuoco Ok E quindi E quindi E quindi Despite his weighty armor He lived in fear Of a delicate thing Little more than a girl Where fire is hiding Shadows twist And shrivel But in the abiss There are shadows none Fear not the dark my friend And let the feast begin And so Ok Allora prima di proseguire Direi che possiamo andare a vedere di qua Perché c'era una zona che l'avevamo ancora visto Se vi ricordo Che c'era una zona che l'avevamo ancora visto E' il cuglionito questo là Ok So che abbiamo tante anime ma Ok Ok Dove so Parigo Mamma mia Bello Un po' 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 ok eccoci se riesco a far venire solo lui e va bene anche l'altro venga venga aspetta, terci tua difficoltà aspetta, terci tua difficoltà aspetta, cazzo, cazzo come perdere 100.000 fatute anime del cazzo vabbè, dobbiamo recuperarmi non quelle puttana Eva non saranno tante ma, eh mi spiace purtroppo cioè fa parte del gioco per carità ma rompi i coglioni non lascio lì ma dovuto forse recuperarle subito anche perchè avevo la vita dimezzata quindi vabbè ho impazienza venga dai su non per cazzo però eh ok ok no l'altro no mamma mia la stamina me l'ha servita per tutti e tutti tu una scendi vai buttalo giù ok andato morto perfetto questo eh c'è la cagare tutte e due ok allora proseguiamo mi ha perso tutte le anime però vabbè non facciamo farci niente ok l'ho sentito qualcosa che è accaduto diciamo così cerchiamo di recuperare almeno un po' di anime visto quello che ho perso cazzo peccato peccato attenzione attenzione che mi sto sparando ok se ne ha l'altro che è lì ah è l'ultimo che mi stava sparando ah l'altro non ha il coso della maledizione allora di qua non c'è niente no tutto perché ho deciso di usare quest'arma puttana era oppa bella questa bella questa eh un bel po' aumenta di un bel po' ok bello no qui sotto no no qui sotto è dove eravamo prima cerchiamo di capire come fare a raggiungere l'altro lato e in realtà di là forse c'è una scala qualcosa che non ho visto ma perché in realtà in realtà di lì poi si sale non mi sembra che ci sia altro qua eh peccato per le anime perse veramente peccato 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 se ci sono delle scale poi ho preso delle scale delle scale magari delle scale che vanno su non mi sembra faccio un attimo un altro giro veloce ci salutiamo qua dopo aver preso 110.000 fottute anime del cazzo Pucutana Eva Troia Valdaraca Equipi Neapidometta va bene ragazzi alla prossima Pucutana Eva